Eccoci, siamo con il Presidente, Presidentissimo dell'Unione La Rocca. Ciao Francesco! Ciao Gianfranco, ciao! Vedo un grande sorriso, una grande soddisfazione sul tuo voto. Grandissima soddisfazione, è stata una cosa meravigliosa, un'emozione fortissima, impensabile fino a qualche mese fa, però oggi abbiamo raggiunto uno degli obiettivi che c'eravamo prefissi. Non abbiamo vinto niente, abbiamo comunque conquistato una grande coppa, diciamo che nella nostra categoria siamo la squadra più forte del Veneto e questo è un orgoglio per me e per tutta la società, però l'obiettivo primario rimane sempre il campionato, dobbiamo puntare su quello. Siamo, perché ne faccio parte anch'io, una società giovane nata da pochi anni però già ha raggiunto un grande risultato. Il campionato, come si diceva, con Beggio lo vediamo da domani. Adesso festeggiamo però. Sì, sicuramente sì. Adesso si festeggia, vivremo una Pasqua, almeno per quello che mi riguarda, più felice. Sarà una Pasqua diversa, da campioni, diciamo così. Poi da martedì dobbiamo pensare subito a domenica prossima, perché l'obiettivo è quello. Poi, ovvio, orgoglioso comunque di essere qua, di aver sollevato questa pompa. Bene, Presidente, grazie delle tue parole e alla prossima. Ciao, grazie. Ciao, grazie. Grazie.